Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro. Si tratta del primo webinar dedicato all'approfondimento sulle linee guida in materia di sportello unico per le attività produttive. Questo ciclo di webinar è proposto dal centro di competenza regionale a supporto delle attività del SURAP della regione Campania. I prossimi due incontri di questo ciclo sono previsti per il 10 giugno e il 24 giugno 2021. A partire dalla fine della settimana prossima sarà possibile iscriversi al secondo appuntamento, cioè quello del 10 giugno, sempre sul sito di Eventi.pia. Io sono Onorina D'Agostini e vi darò un supporto nel corso di questo incontro. Dunque, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione che a sua volta si inserisce nel progetto Pong Governance e capacità istituzionale 2014-2020 supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato mandato al Forma EZPA di attuare il progetto stesso. Queste sono le tematiche che sono state affrontate nel corso dei webinar e dei seminari appunto attinenti al progetto, mentre questa infografica riporta il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31-12-2020. Anche questa infografica riporta appunto il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar suddivisi per Regione. Qui vediamo invece gli enti di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per Regione. Queste sono le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020. Le scorriamo insieme. Formazione in presenza e a distanza, 126 tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione con 3.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni. Sono stati costituiti e attivati sette centri di competenza regionali per la semplificazione presso le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friule, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. Sono state realizzate attività di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione e reti di esperti con creazione di comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it Qui vediamo i temi per webinar e focus che sono stati realizzati nei mesi di novembre e dicembre 2020 e curati dai centri di competenza. Scorriamoli velocemente insieme. Il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa, infine norme regionali di semplificazione. Questi sono i temi dei webinar in programma, norme modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Questi sono i centri di competenza pienamente attivi, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Sicilia, Campania e Sardegna e il progetto quindi fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e i centri di competenza errogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse. Dunque, questi sono i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati, analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale, cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale e della normativa regionale, strumenti a supporto della semplificazione manuali, linee guida, infrastrutture tecnologiche. I centri di competenza si sono quindi rivelati degli strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA su cui potete trovare tutti i webinar e i seminari che sono stati realizzati nell'ambito del progetto. Queste sono invece i webinar realizzati con la regione Campania, dal più recente del 25 marzo 2021 fino al meno recente, quello del 27 maggio 2020. In questa slide invece abbiamo inserito tutti i webinar che sono stati realizzati sui SUAP. L'ultimo è stato quello del 14 aprile del 2021, mentre il meno recente è quello del 27 maggio 2020. Vediamo a questo punto l'incontro di oggi. Dopo la mia breve introduzione lascerò la parola per dei saluti istituzionali al dottor Nello Dauria, che è segretario generale di Anci Campania, e poi, che vedo e sento già collegato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poi lasceremo la parola ai relatori, che sono appunto Sergio Mazzarella, dirigente SURAP Campania, Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione del form ZPA, e Giuseppe Agostinelli, responsabile Infocamere. A partire dalle 11 lasceremo spazio alle risposte alle vostre domande che porrete in chat, e alle 11.30 è prevista la chiusura. Velocemente ricordo i temi che tratteranno i relatori, le azioni di semplificazione normativa e procedimentale realizzate dal Centro di Competenza Regionale a supporto del SURAP, il ruolo dello sportello unico all'interno dell'amministrazione comunale, con gli altri uffici interni, gli enti terzi, gli aspetti generali dei procedimenti amministrativi del SURAP, e il portale Impresa in un giorno, gli strumenti messi a disposizione dal sistema camerale. Ricordo che potete scrivere in chat le vostre domande, che la sessione di oggi sarà chiaramente registrata, registrazione e slide saranno a disposizione sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata a questo evento, al termine della giornata di oggi. A questo punto non mi resta che augurarvi buon webinar, lascio la parola immediatamente al dottor Dauria. Buongiorno a tutti. Come lei diceva, la nostra presenza è per far sentire un po' anche la vicinanza da parte di Anci Campania in questo percorso che stiamo seguendo a tutti i comuni della regione Campania, che sono circa 550 comuni, costituiti dalla gran parte di piccoli comuni. Quando noi abbiamo avuto modo di approcciare a questo processo, che consideriamo virtuoso, insieme anche all'assessore Casucci e all'assessore Marchiello, subito abbiamo evidenziato la necessità e l'esigenza di intervenire in maniera strutturata e sistemica nei confronti di tutti i comuni. I risultati che lei prima ha evidenziato fanno comprendere l'importanza delle argomentazioni che effettivamente sono, saranno e sono state trattate. Noi come Anci abbiamo cercato, sin dall'inizio del nostro convencimento, di dare il nostro supporto. Ci sono tante cose da fare. Posso portare la testimonianza di numeri di segnalazioni che ci vengono fatte, soprattutto dai piccoli comuni a riguardo. Più volte, anche nei discorsi un po' singoli, con i componenti, abbiamo cercato di capire quelli che possono essere gli aspetti da migliorare. Come sappiamo, i su-app molto spesso, soprattutto nei piccoli comuni, hanno una difficoltà di essere strutturati in termini di know-how, di risorse del personale. Spesso, anche dove c'è un sistema un po' più strutturato, gli uffici hanno difficoltà a dialogare, quindi si creano dei piccoli colli di bottiglia. Noi come Anci Campania daremo tutto il nostro supporto ai comuni in questo procedimento e siamo convinti che mai cosa è più giusto in questa fase storica, dove stiamo uscendo dalla pandemia e quindi si aspica una ripartenza e semplificando alcune procedure, alcuni processi, avendo più chiaro il percorso da seguire, sicuramente tutto sarà più semplice. Quindi io vi ringrazio a tutti voi per quanto state facendo, considerateci a vostro fianco e do un in bocca al lupo a tutti i comuni che spero in maniera più celere possibile seguano tutti i processi. Grazie. Grazie al dottor Dauria, lascerei la parola a questo punto al dottor Sergio Mazzarella. Buongiorno a tutti, sono Sergio Mazzarella, sono il dirigente del SURA della regione Campania. Innanzitutto voglio portare i saluti sia dell'assessore Marchiello, assessore delle attività produttive, che dell'assessore Casucci, assessore alla semplificazione, che purtroppo per impegni sopravvenuti oggi non possono partecipare. Però voglio testimoniare che è un interesse di primario livello, quello degli assessorati, quello di favorire quello che può essere le attività che devono svolgere i SUAP comunali e ovviamente in tal senso favorire anche il cittadino, le imprese e coloro che operano insieme ai SUAP, che si confrontano con i SUAP, quindi nello svolgimento delle attività che sono volte ovviamente a definire quelle che sono poi la vita delle aziende stesse. Ora, come giustamente diceva anche il dottor Dauria, il territorio della regione Campania è rappresentato quindi da molti comuni, molti sono piccoli, abbiamo detto sono circa 550 e diventa estremamente importante seguire, cercare di aiutare i SUAP, soprattutto quelli meno strutturati, per svolgere al meglio le loro funzioni. In questo contesto, come SURAP, dallo scorso anno abbiamo iniziato ad organizzare i lavori per favorire lo sviluppo e per rafforzare le attività dei SUAP con dei progetti annuali in modo tale da definire in maniera chiara e anche condivisa e facilmente verificabile, quanto meno conoscibile e poi anche verificabile da parte di tutta l'utenza, con dei progetti annuali di attività di potenziamento e di supporto ai SUAP comunali, che sono stati approvati con un decreto. L'anno scorso l'abbiamo fatto ad aprile, certo c'era stata la problematica del coronavirus che ci ha da una parte rallentato, ci ha tardato, dall'altra parte ci ha fatto modificare poi in corso d'opera quelle che erano le modalità operative e anche poi quest'anno con il decreto numero 1 del febbraio di quest'anno pubblicati tutti sul book e sul portale del SURAP e a fine anno, dello scorso anno, abbiamo fatto poi un report delle attività che sono state svolte, devo dire in maniera molto positiva e anche quello pubblicato come un allegato del decreto di quest'anno. Allora, sostanzialmente le attività e le funzioni nel quale poi si inquadra anche l'incontro di oggi nascono dal monitoraggio costante che il SURAP fa delle funzionalità dei SUAP comunali, in particolare delle piattaforme che sono le modalità di accesso ai servizi dei SUAP. Dal monitoraggio del 2020 abbiamo rilevato che su circa 550 comuni diciamo il 30% non offre un servizio adeguato ad uno standard minimo europeo e in realtà questa non è una problematica solo della regione Campania è una problematica nazionale e infatti l'Italia è in sanzione comunitaria per questa problematica e quindi lo sforzo è quello di cercare di migliorare e di sanare questo gap per permettere a tutti i SUAP di arrivare a un livello minimo di servizi che sia diciamo accettabile e compatibile con i standard nazionali ed europei. Ma gran parte della problematica li abbiamo individuata spesso con i comuni che diciamo hanno da soli definito una piattaforma o anche con aiuto diciamo di alcune società una piattaforma di accesso quindi ai servizi del SUAP. Devo dire coloro che invece hanno delito alla piattaforma imprese un giorno di Union Camera ecco ovviamente si trova uno strumento che è presidiato da un soggetto esperto quali Info Camera e Union Camera è costantemente aggiornato. Da questo punto, dalle criticità che stavano rilevate noi come SUAP comunichiamo formalmente ai comuni le criticità stesse ma con uno spirito assolutamente non sanzionatorio o che vogliamo come dire essere diciamo repressivo o antipaci nei loro confronti. In realtà mostriamo queste criticità dando anche la possibilità, offrendo, anzi invitando a entrare in contatto con noi e con la squadra dei nostri partner che sono appunto costituiti da Union Camera e Info Camera che è il braccio operativo, il Formez e anche Anci come ci stiamo diciamo come dire stiamo iniziando a collaborare in maniera più fattiva anche con Anci proprio per cercare di trovare delle soluzioni percorribili e anche a costo zero. Devo dire che la maggior parte delle problematiche che sono state rilevate appunto derivano innanzitutto dal fatto che c'è una piattaforma inadeguata o addirittura talvolta possiamo anche dire sostanzialmente inesistente e che è un grosso problema perché ovviamente il legislatore nazionale con il DPR 160 con la istituzione del suo ha proprio voluto definire un unico sportello a cui si deve necessariamente rivolgere il cittadino o l'imprenditore per aprire un'attività per fare delle modifiche e poi eventualmente per la gestazione dell'attività. Nello spirito della legge ovviamente questo è per semplificare la vita al cittadino e all'imprenditore perché così ha un solo punto di riferimento che poi provvede a gestire la pratica e entrare in contatto con tutti gli enti competenti. Però purtroppo ci scontriamo con le difficoltà operative di ogni giorno è stato già evidenziato che molti comuni sono piccoli poco strutturati e il personale ormai è piuttosto scasso nella pubblica amministrazione questa è una problematica comune a tutte le pubbliche amministrazioni talvolta abbiamo rilevato che spesso c'è un turno del personale perché molti vanno ormai in pensione con avvicendamento del personale ad interim quindi che ha altre funzioni e per il quale non c'è stato nessun passaggio di consegna sono tutte problematiche che ovviamente poi alla fine si scaricano diciamo ovviamente sull'utente perché il servizio risulta essere più difficile o poter avere un servizio rapido e sulla luce di queste considerazioni come detto noi siamo sempre a disposizione e anzi attivamente andiamo a rilevare nei confronti dei comuni le criticità per poter trovare una soluzione e abbiamo appunto a seguito della pandemia in realtà messo su tutta una serie di incontri in videoconferenze con Union Camere e coinvolgendo il Formex per sentire le problematiche e prospettare diciamo le soluzioni in questo contesto devo dire che molte delle problematiche nascono dal fatto che la piattaforma è una piattaforma un po' autonoma certo i comuni sono assolutamente liberi di definire la piattaforma come vogliono però diciamo molte volte per esempio proponiamo che il passaggio alla piattaforma imprese in un giorno se ne parlerà più tardi ecco può risolvere gran parte dei loro problemi perché hanno uno strumento evoluto diciamo di dialogo con l'utenza e tra l'utenza non c'è solo l'impresa ma anche tutti i consulenti quelli che seguono l'impresa nelle sue pratiche e quindi diciamo per esempio con questo passaggio gratuito per i comuni perché il servizio è fornito per esempio da Union Camere e da Linfocamere ma diciamo ai suoi costi questo servizio sicuramente permette un miglioramento del rapporto con l'utenza e anche della gestione delle pratiche questo è fondamentale perché ovviamente uno dei fini che ha come SURAP il mio ufficio è quello proprio di favorire la crescita ma anche di standardizzare e di rendere uniformi le procedure per cui ci si rende conto che se si arriva a delle procedure standard e uniformi chiunque si colleghi da qualsiasi parte d'Italia sul sito del comune sulla piattaforma del comune si trova sostanzialmente la stessa modulistica la stessa scheda da riempire con le stesse procedure proprio per favorire questo tipo di standardizzazione ecco si è definito nell'ambito del centro di competenza che è stato istituito lo scorso anno nell'ambito del progetto appunto con il Formez ma anche con il protocollo di intesa con Neoncane si è definito innanzitutto l'idea di mettere appunto delle linee guida per i SUAP campani cioè vale a dire sostanzialmente un vademecum per gli operatori intendendo per operatori non solo i dipendenti diciamo dei SUAP ma anche l'utenza quindi i cittadini e in particolare anche i professionisti che seguono le aziende che assistono alle aziende nelle loro pratiche amministrative e quindi per esempio in particolare la categoria dei commercialisti al fine proprio di dare sostanzialmente una sorta di manuale operativo al cui far riferimento per standardizzare standardizzare le procedure come detto il tema del SUAP le funzioni del SUAP sono molto delicate anche con Confindustria abbiamo avuto recentemente degli incontri e delle osservazioni e talvolta diciamo il rallentamento dei lavori del SUAP anche per mancanza di esperienza può essere del personale o anche per non conoscenza di alcune norme comporta dei rallentamenti dei colli di bottiglia che in questo modo speriamo di poter diciamo ridurre le linee guida sono state approvate con la delibera 156 del 14 di aprile scorso pubblicate sul book e sono pubblicate anche sul portale del SUAP che invito anche a visitare per coloro che seguono la materia perché diventa un punto di riferimento per molte informazioni anche di pareri che forniamo ai vari uffici quindi diciamo la funzione appunto delle linee guida diventa quella di aiutare ulteriormente nel lavoro quotidiano i SUAP e coloro che hanno contatto quindi che ogni giorno dialogano con i sportelli unici delle attività produttive e rappresenta sicuramente per quest'anno per il progetto per il nostro programma 2021 un tema centrale che abbiamo sviluppato che si viene sviluppato e da divulgare mi evidenzio anche che tutta la squadra che appunto fa capo al centro di competenze anche con l'ANCE quindi Union Camere Info Camere il Formez in particolare che ringraziamo anche per diciamo l'organizzazione del webinar di oggi e poi del 10 di giugno del 24 a seguire e comunque a disposizione anche per ulteriori per chiarimenti e non ci siamo fermati solo alla approvazione delle linee guida è estremamente importante riteniamo anche quello il compito di divulgare di fare formazione di rendere appunto diciamo quanto più insomma di avere diciamo conoscenza dell'esistenza delle linee guida ancora prima poi di entrare nel merito e per questo abbiamo programmato questa attività formativa che inizia oggi con questo primo webinar a seguire con gli altri webinar e anche con sempre Union Camere Formez e anche con Anci pensiamo poi di fare ulteriori attività divulgative diciamo sui territori io a questo punto passo la parola diciamo ai relatori che entreranno più nel dettaglio delle linee guida con la speranza quindi che queste iniziative possano essere davvero di un aiuto per le attività operative nella considerazione che poi l'utente finale quindi che l'impresa diciamo il tessuto produttivo in questo periodo di difficoltà economica deriva quindi poi dalla crisi pandemica diciamo aspetta ancora di più un aiuto una semplificazione una standardizzazione delle procedure per poter diciamo operare svolgere la sua attività imprenditoriale buon lavoro e poi ci rivediamo verso la fine del webinar per eventuali domande grazie grazie al dottor Mazzarella allora lasciamo la parola al dottor Rocca Salva esperto come dicevamo prima di semplificazione forma SPA provvedo a proiettarne la presentazione sì grazie onorino grazie a tutti buongiorno allora in attesa delle slide giusto una come dire un incipit su quello che sarà il mio breve mio breve intervento poi cederò la parola al dottor Agostinelli di Infocamere dunque noi ecco come come recita la slide io tratterò soprattutto gli aspetti organizzativi del del SUAP in fase come dire in fase genetica quindi in fase di realizzazione del SUAP e mi perdoneranno naturalmente tutti coloro che vedo che ci sono collegati SUAP ormai operativi già da molti anni che questi problemi li hanno già affrontati e risolti però diciamo lo spirito del mio intervento che poi riflette anche lo spirito delle linee guida e le linee guida approvate dalla regione è quella di dare un supporto un po' a tutti i 550 comuni della della campagna molti dei quali magari non hanno neanche l'accesso come dicevano prima i relatori alla piattaforma informatica e quant'altro per cui si trovano a muovere i primi passi e quindi devono capire come organizzare come organizzare il SUAP ecco noi abbiamo cercato di dare un suggerimento operativo a tutti quindi considerando tutta la platea di potenziali interessati e quindi mi soffermerò dopo brevemente anche su questi sugli aspetti proprio come quali opzioni fare in fase genetica in fase di realizzazione del SUAP questa prima slide ripercorre brevemente il percorso di realizzazione delle linee guida quindi abbiamo impostato appunto come gruppo di lavoro del Forma SPI io e la mia collega la dottoressa Russo che saluto abbiamo Giuseppina Russo abbiamo diciamo creato la bozza di linee guida l'abbiamo condivisa naturalmente con tutto il gruppo di lavoro del centro di competenza regionale quindi con tutti gli attori del sistema camerale con la regione e poi successivamente grazie appunto ai contatti del sistema camerale questa alla bozza è stata mandata a un pool di comuni che sono stati individuati da loro per eventuali osservazioni correttivi ne sono arrivate devo dire quasi tutte le abbiamo recepite ecco e questo voglio sottolinearlo era una come impostazione era la l'inizio di un percorso che poi ha portato quello della condivisione dal basso delle nostre iniziative che ha portato poi alla realizzazione della community su app su cui dopo se c'è tempo magari spendo due parole quindi un pool diciamo così di professionisti che ci supporta dall'esterno supporta il centro di competenza regionale dall'esterno che potrà potrà aiutarci perché noi abbiamo bisogno naturalmente di chi lavora quotidianamente le pratiche nei su app nei su e quant'altro quindi è una è una struttura assolutamente aperta e la community serve proprio ad alimentare questo percorso e ad avere noi dei feedback dal territorio dopodiché si è arrivati all'assessore del documento finale grazie anche al contributo di Anci Campania come diceva il dottor Mazzarella e gli assessorati regionali competenti e poi il 14 marzo è stata approvata le linee guida sono state approvate con la delibera di giunta 156 allora brevissimamente in queste slide ripercorro quello che abbiamo scritto nelle linee guida naturalmente nulla le linee guida hanno un valore compilativo e di riassunto della normativa vigente quindi certamente non possono innovare assolutamente quindi ripercorriamo quello che è quella che è la normativa nazionale e regionale in materia ai sensi del DPR 160 sappiamo che il SUAP può essere gestito dai comuni in forma singola o associata naturalmente come o in forma autonoma quindi con l'accreditamento presso il ministero dello sviluppo economico o in convenzione con la camera di commercio oppure delegando alla camera di commercio gli aspetti di gestione strumentale quindi ma in tutti i casi chi a chi compete il diciamo così l'istruttore rilascio del provvedimento unico o comunque le verifiche delle autocertificazioni presentate in caso di scia quindi di procedimento automatizzato è sempre naturalmente il comune questo questo va ripetuto chiaramente il supporto appunto della piattaforma è un supporto di carattere strumentale tecnologico e non non amministrativo in senso stretto allora un altro aspetto che abbiamo che abbiamo inteso evidenziare discutere nell'ambito delle linee guida regionali senza avere la pretesa di avere come dire la verità in tasca è quella di abbiamo provato a fare un ragionamento sulla collocazione ottimale del SUAP all'interno dell'ente naturalmente come sa chiunque sia approcciato a questo problema non è una risposta che si può dare in maniera univoca quindi dove come allocare il SUAP all'interno dell'organigramma comunale dipende dall'autonomia organizzativa dell'ente direte voi ci mancherebbe altro oppure dagli accordi sottoscritti in caso di gestione del servizio in forma associata quindi gli accordi traenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 più avanti possiamo dare giusto qualche suggerimento abbiamo dato qualche suggerimento nelle linee guida ma naturalmente il SUAP è il comune che è sovrano nello stabilire come e dove allocare il SUAP un aspetto importante sempre dal punto di vista funzionale organizzativo è che né le amministrazioni pubbliche quindi le altre amministrazioni pubbliche gli enti terzi né gli altri uffici comunali interessati al procedimento unico quindi che può essere l'ufficio commercio la polizia locale l'ufficio tecnico l'ufficio ambiente e quant'altro possono trasmettere richiedente atti autorizzatori nulla osta pareri o atti di assenso anche negativo ma tutto deve essere come sapete come era previsto già dal vecchio DPR 447 del 98 e come ribadito naturalmente dal DPR 160 del 2010 tutti sono tenuti a trasmettere al SUAP le denunce le domande gli atti e la documentazione presentati eventualmente a loro dando le comunicazioni al richiedente quindi si trasmette l'ufficio mettendo in coppia per conoscenza il richiedente tutto quanto è arrivato tutto quanto è arrivato al singolo ufficio al singolo ente questo è quello che prevede quello che prevede la normativa quindi dicevamo come come allocare il SUAP all'interno dell'amministrazione intanto il il SUAP può essere per chi parte per chi parte adesso può essere considerato come un nuovo ufficio quindi un qualcosa in più che vado a inserire nell'organigramma comunale oppure come il risultato di un accorpamento di funzioni di più o più di due o più uffici quindi magari accorperò come accade soprattutto nei comuni di dimensioni piccola medio piccola accorperò le funzioni di commercio e di ufficio tecnico di edilizia come si chiamano ancora anche se dal 2012 soprattutto il nome dovrebbe essere SUE sportello unico per l'edilizia ad ogni modo ufficio tecnico e commercio così ci capiamo o altri uffici insomma non c'è una regola scritta da cosa dipende naturalmente la scelta di dove e come allocare il SUAP dipende da una valutazione non semplice non banale che deve tener conto intanto del tessuto produttivo esistente nel territorio di riferimento ecco questo ci abbiamo tenuto a scriverlo nelle linee guida quindi ogni territorio ha una sua vocazione ci sono magari ci sono territori come anche nelle grandi città nelle città medio grandi dove il tessuto produttivo è molto variegato ma ci sono territori dove invece il tessuto produttivo è molto più univoco è molto più focalizzato su una determinata attività ecco quindi in funzione di quello si può decidere di allocare il SUAP nell'ufficio commercio piuttosto che nell'ufficio edilizia o altrove ma l'altra scelta è importante l'altro fattore è importante anche dipende dai profili professionali e dalla numerosità del personale in forza dei vari uffici cioè in un periodo l'abbiamo scritto nelle linee guida in un periodo assolutamente di sofferenza per tutti gli enti non soltanto per i piccoli vi assicuro ma anche per i medi e per i grandi comuni della Campania come di tutta Italia chiaramente bisogna fare massa critica quindi bisogna cercare di recuperare efficienza attraverso l'utilizzo di risorse che già operano in qualche modo in quelle attività tutto questo tutto quello che abbiamo detto finora è in funzione comunque di un obiettivo è quello di assicurare alle imprese comunque efficienza ed efficace e questo se valeva prima del 2020 vale ancora di più adesso che ce lo diciamo sempre come dire ci come si dice in gergo ci sciacquiamo la bocca con questo discorso del stare sempre vicino alle imprese perché le imprese stanno in sofferenza molti che hanno chiuso per la pandemia eccetera però è vero che proprio in una fase del genere i comuni in primis devono devono assicurare il più possibile considerando anche lo smart working e considerando tutte le difficoltà che oggi ci sono perché sono innegabili ma comunque i turnover quindi i pensionamenti e quant'altro bisogna assicurare il più possibile alle imprese efficienza ed efficacia ed anche per questo l'utilizzo attento della piattaforma telematica è importante perché anche da remoto anche a distanza è possibile comunque assicurare servizi a valore aggiunto alle imprese e ai loro intermediari questo è un aspetto molto molto importante su cui poi dopo naturalmente il dottor Agostinelli meglio di me si soffermerà un altro aspetto che abbiamo voluto tratteggiare nelle linee guida è quella del rapporto sempre molto come dire dibattuto e delicato con la struttura gemella del SUAP che è il suo e lo sportello unico per l'edilizia che vi ricordo trova la sua fonte normativa già nel 2001 con l'articolo 5 del DPR 380 il testo unico dell'edilizia quello che però è dirimente ai fini della risposta su come articolare i rapporti tra i due uffici sono due norme di legge una è lo stesso articolo 5 che con il comma 1 bis recita lo sportello unico per l'edilizia fa tutta una serie di attività fondamentalmente l'ufficio gemello dello sportello unico nel campo dell'edilizia non produttiva perché dico non produttiva perché poi il comma 1 bis dell'articolo 5 dice resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive quindi in tutti i campi di attività produttive nel caso dell'edilizia produttiva quindi quando occorre acquisire un titolo abilitativo che sia la la CILA che sia la SCIA che sia il permesso di costruire funzionale all'esercizio di un'attività produttiva comunque il canale di interlocuzione con il richiedente deve essere sempre il SUAP e non il SUAP e non il SUE infatti l'articolo 4 con base del DPR 160 dice salva diversa disposizione dei comuni sono attribuite al SUAP addirittura alle competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva cosa vuol dire salva diversa disposizione dei comuni vuol dire che se il comune non dispone diversamente in teoria il SUAP gestisce direttamente le pratiche di edilizia produttiva ma naturalmente questo può essere evitato quindi è possibile tranquillamente una separazione funzionale di competenze tra il SUAP e il SUE arriva la pratica al SUAP il quale si è così stabilito dal comune il quale inoltre lendo procedimento edilizio allo sportello unico per l'edilizia per l'aspetto appunto relativo ai lavori agli interventi a farsi ma tutto quello che è il canale di entrata e di uscita dal comune deve essere assicurato attraverso il SUAP e non attraverso il SUE infatti come conclude la slide anche in caso di separazione organizzativa tra il SUAP e il SUE come tipicamente accade in molti comuni il titolo abilitativo edilizio richiesto per un impianto produttivo è sempre unendo procedimento all'interno del procedimento unico che afferisce al SUAP quindi anche nel caso in cui diciamo ormai residuale nella casistica in cui occorra un permesso di costruire perché oggi se andiamo a vedere le ultime riforme dal decreto legislativo 222 e in giù è data sempre più come dire enfasi agli interventi che si possono realizzare o addirittura in edilizia libera o comunque con scia o con cila ma comunque anche laddove occorre il permesso di costruire questo dovrebbe essere questo titolo abilitativo edilizio deve essere trasmesso dal SUE al SUAP e il SUAP non dovrebbe rilasciare io dico non dovrebbe perché uso il condizionale perché chiaramente poi la prassi a volte suggerisce aggiustamente rimedi diversi ma a rigor di norma il SUAP non dovrebbe limitarsi a trasmettere il cosiddetto permesso di costruire al privato richiedente all'impresa ma deve rilasciare un titolo unico dove oltre al permesso di costruire naturalmente dentro ci sono anche immagino altri aspetti comunque sia il SUAP rilascia un titolo autorizzativo unico in questo caso ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160 quindi ricapitolando il titolo abilitativo per gli impianti produttivi di beni e servizi eventualmente rilasciato dal SUE deve operare sempre e comunque all'interno del procedimento unico il procedimento unico è quello come vi dicevo disegnato dall'articolo 7 del DPR 160 del 2010 al SUE compete qualora appunto il comune si sia avvalso della facoltà di suddividere le funzioni di SUAP al SUE compete soltanto la gestione dell'endoprocedimento edilizio quindi la verifica del rispetto della normativa edilizia urbanistica di riferimento il controllo in merito a relazioni di elaborati richiesti eccetera quindi tutto quello che è proprio l'essenza dell'endoprocedimento dell'istruttore di carattere edilizia urbanistica anche se al SUE è stata assegnata la competenza in materia di edilizia produttiva l'interessato dovrà comunque presentare l'istanza al SUAP tramite la piattaforma informatica o laddove il SUAP ne sia sprovvisto tramite una una PEC ricordo appunto che l'optimum sarebbe utilizzare una piattaforma ma non soltanto per l'imprenditore ma anche per voi che lavorate all'interno dei comuni un conto è lavorare un numero indecifrato di PEC che arrivano che partono eccetera un conto è avere un cruscotto che vi assicura appunto la piattaforma come camerale così come gli altri prodotti in commercio un conto invece e quindi avere un cruscotto che vi consente di gestire in maniera molto più efficiente e sinottica diciamo le pratiche che vi trovate a gestire quindi il SUAP come dicevamo prima in questo caso provvederà inoltrare al SUA la pratica per gli adempimenti di competenza un altro aspetto importante che abbiamo voluto individuare nella diciamo nelle linee guida è la questione del responsabile del SUAP e responsabile del procedimento allora il SUAP naturalmente come prevede anche l'articolo 4,4 del DPR 160 il comune deve individuare sempre e comunque il responsabile del SUAP naturalmente ve lo diciamo sempre chi deve essere messo a capo degli uffici lo stabiliscono non nel Formez nel centro di competenza regionale nelle linee guida ma lo stabiliscono le norme il reato 165 del 2001 i contratti collettivi nazionali di lavoro e soprattutto quelle che sono le funzioni come dire gli organigrammi all'interno all'interno del comune ad ogni modo deve essere il responsabile SUAP un soggetto che appartiene ai livelli apicali della tecnostruttura dell'ente quindi sicuramente una categoria di un dirigente laddove naturalmente queste figure siano presenti finché questi soggetti non vengono individuati ricordiamo che il ruolo di responsabile SUAP è ricoperto dal segretario comunale questo perché la norma dice io devo comunque partire dal presupposto di assicurare all'imprenditore un interrogatore certo e univoco se non è stato fatto è responsabile SUAP a sua volta il responsabile SUAP potrà nominare uno o più responsabili di procedimento ma questo lo vediamo nella prossima slide qui ci soffermiamo invece sul discorso responsabile SUAP e responsabile SUE naturalmente ci sono comuni che hanno fatto la scelta di individuare un unico responsabile altri invece la maggior parte hanno individuato due responsabili magari responsabile SUAP con profilo più tipicamente amministrativo e quello SUE profilo più tipicamente tecnico ma anche qui dipende naturalmente dall'organizzazione interna che si è data il singolo mente soprattutto dal rapporto che come abbiamo visto prima si è scelto di strutturare tra SUAP e SUE naturalmente resta fermo quanto abbiamo detto sopra sul fatto che comunque sia il rapporto tra SUAP e SUE tutto quello che fa il SUE nell'ambito dell'edilizia produttiva deve operare all'interno del procedimento unico gestito dal SUAP ho quasi concluso quindi dicevamo il responsabile del SUAP è responsabile del procedimento come dice la legge nell'articolo 5 della legge 241 il responsabile SUAP sempre per lo stesso principio per cui tutto ciò è fatto nell'interesse del privato che deve sempre sapere chi è la sua controparte comunale in questo caso finché non è stata fatta un'assegnazione di funzioni di responsabilità di procedimento ai singoli addetti al SUAP tutte le pratiche del SUAP si considerano in capo direttamente al responsabile del SUAP stesso quindi questo è una cosa assolutamente da tenere in considerazione quindi deve essere fatto in maniera formale naturalmente lo prevede la legge 241 quindi finché non è stata fatta non è stata assegnata la responsabilità di singoli procedimenti o di gruppi di procedimenti ad altri dipendenti può essere fatto in maniera generale o speciale ma comunque deve essere fatto e deve essere reso pubblico anche principalmente attraverso il canale web attraverso la cattaforma attraverso il sito il responsabile del SUAP è quello che risponde di tutti i procedimenti ecco perché è importantissimo nella ricevuta della quando presento una pratica al SUAP nella ricevuta la prima informazione che devo avere qual è il nominativo del responsabile del procedimento più che del responsabile SUAP e qual è il suo domicilio digitale quindi è importante questa è un'innovazione prevista introdotta dal decreto semplificazione il decreto 73 del 2020 che appunto prevede quali sono i canali telematici attraverso cui io posso interloquire con il responsabile del procedimento ricordiamo infine che il responsabile SUAP è il comunque il referente per l'esercizio del diritto di accesso quindi varie tipologie del diritto di accesso documentale civico generalizzato ma soprattutto documentale in questi casi per gli atti accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP anche se questi atti e questi documenti detenuti dal SUAP provengono da altre amministrazioni e da altri uffici comunali quindi non è un discorso di titolarità delle informazioni se io ho degli atti che mi sono stati ovviamente trasmessi in quanto gestisco un procedimento unico comunque l'interessato deve fare a me come responsabile SUAP la domanda di accesso infine con questa slide ho concluso e poi dopo do la parola al dottor Agostinelli il responsabile del SUAP deve garantire naturalmente che il SUAP impronti la propria attività ai principi di rispetto ai termini procedimentali risoluzione di difficoltà interpretative che ci possono essere anche con gli enti terzi il perseguimento della semplificazione a favore delle imprese eliminando adempimenti oneri burocratici non indispensabili ricordiamo sempre che quello che stiamo facendo noi come centro regionale della semplificazione qualcosa che a cascata può essere fatta sempre da qualunque livello di governo quindi anche a livello di non solo di regione ma anche di province o città metropolitane e comuni è possibile sempre eliminare adempimenti burocratici non indispensabili questo lo prevede anche lo stesso decreto SCIA 2 il 222 del 2016 l'inalzamento della qualità del servizio e la standardizzazione dei processi ecco enfatizzo molto la questione della standardizzazione dei processi che si realizza attraverso soprattutto due canali che sono la modulistica unificata e standardizzata e l'interfaccia della telematica attraverso un portale naturalmente l'informatizzazione e la digitalizzazione e poi questo è un altro aspetto che a volte viene trascurato ma secondo noi è importante promuovere prestazioni accessorie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme come la periodica formazione dei dipendenti e degli utenti noi naturalmente facciamo come Formez tanta anche grazie al centro di competenza regionale facciamo tanta formazione gratuita come sapete ma è importante anche consentire agli utenti di come dire di accedere alle informazioni perché spesso noi ci lamentiamo negli uffici della cattiva qualità delle pratiche che ci vengono presentate perché gli stessi intermediari gli stessi tecnici non sono perfettamente addentro alle norme immaginiamo tutto quello che capita con l'Aua o con altre pratiche complesse come le pratiche edilizie eccetera ecco è importante riuscire a creare anche momenti condivisi di formazione non soltanto per i nostri per i nostri dipendenti ma per ma per gli utenti in generale del SUAP perché poi alla fine è un sistema che deve che deve girare e remare tutto dalla stessa parte quindi questa slide mi sembra come dire significativa soprattutto perché anche laddove il responsabile SUAP come spesso accade di fatto poi delega tutti i procedimenti ai suoi funzionari ai suoi ai suoi collaboratori naturalmente è importante che appunto il responsabile SUAP come capo struttura garantisca comunque a livello centralizzato il perseguimento di questi obiettivi io mi fermerei qua e do la parola sicuramente alla dottora Costinelli poi dalle 11 11 e 10 in poi insomma cominciamo a rispondere alle domande grazie grazie dottor Roccasalva vedo il dottor Agostinelli collegato allora proietto subito le slide bene buongiorno buongiorno a tutti io mi ricollego alla alla presentazione che che mi ha preceduto del del dottor Roccasalva e quindi proseguirò nel nel ragionamento iniziato per per vedere quelli che sono gli strumenti che vengono messi a disposizione dal sistema camerale dalle camere di commercio e proprio per dare attuazione alle linee guida alle linee guida regionali e per per iniziare appunto mi riaggancio partendo da quelle che sono le finalità chiedendomi come come faceva Totò ma per andare dove dobbiamo andare per dove dobbiamo andare quali sono quindi le finalità gli strumenti le strade che dobbiamo percorrere per raggiungere gli obiettivi gli obiettivi sono stati già elencati da da Roccasalva ma mi piace riprendere le premesse delle linee guida regionali perché secondo me danno un'idea uno spaccato molto preciso di quali sono gli obiettivi che vogliamo perseguire prima di tutto rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi quindi un discorso di certezza dei tempi assicurare procedure e scadenze definite per tutte le iniziative di carattere produttivo quindi quello che già diceva Roccasalva sulla standardizzazione operare in un quadro normativo certo e semplificato garantire massima trasparenza limitare ridurre i tempi burocratici e eliminare ogni adempimento non indispensabile ecco ovviamente sono tutte iniziative volte a semplificare a migliorare il servizio verso le imprese ma anche per migliorare il lavoro dei dipendenti pubblici per migliorare il lavoro dei funzionari comunali lavorare in un quadro normativo certo e semplificato semplifica la vita anche per chi ci deve lavorare che chiaramente lavora meglio se sa bene esattamente cosa deve fare come deve comportarsi eliminare gli adempimenti non indispensabili alleggerisce la burocrazia nei confronti delle imprese dei cittadini ma chiaramente sgrava anche gli stessi funzionari pubblici sgrava anche gli stessi comuni da oneri e da attività che non sono efficaci da questo punto di vista prendo un attimo spunto da una recente ricerca fatta dalla CGA di Mestre che quantifica i costi della burocrazia ai comuni in circa 16 miliardi di euro all'anno quindi stiamo parlando di cifre significative ma andando a vedere più nel dettaglio circa un terzo quindi stiamo parlando di una cifra consistente stiamo parlando di 6 miliardi di euro all'anno sono riconducibili a oneri burocratici spesso superflui stiamo parlando appunto di quelle attività di quegli adempimenti non indispensabili che possono essere eliminati e quindi da questo punto di vista le linee guida e le norme di semplificazione che ci sono state a livello nazionale poi anche a livello regionale ci danno la possibilità di poter togliere eliminare semplificare tutta una serie di adempimenti inutili o addirittura li definiscono anche controproducenti che chiaramente incidono negativamente sull'efficacia dell'amministrazione e frenano la ripartenza del paese siccome noi vogliamo che il paese riparta ovviamente cerchiamo di togliere tutto quello che ingombra tutto quello che non è necessario e che ostacola il corretto funzionamento della macchina amministrativa pubblica e dal punto di vista del sistema camerale lo dicevamo già nell'incontro precedente mettiamo a disposizione tutta una serie di piattaforme digitali nazionali per le imprese in particolare parliamo del swap parliamo del cassetto digitale dell'imprenditore parliamo del sito Ateco che sono tutti strumenti che vengono messi a disposizione proprio per semplificare per facilitare e per dare strumenti da una parte alle imprese e ai professionisti dall'altra anche gli stessi funzionari pubblici per poter lavorare nel migliore dei modi andiamo a vederli più nel dettaglio cominciamo proprio dal portale imprese in un giorno come già diceva Riccardo Locca salva ogni comune accredita presso il ministero dello sviluppo economico il proprio swap decidendo quale tipologia organizzativa di swap vuole utilizzare se quindi gestire un swap in maniera autonoma oppure in convenzione o in delega con le camere di commercio bene da questo punto di vista queste informazioni vengono rese disponibili vengono pubblicate nel portale imprese in un giorno in modo tale che ciascun utente ciascun'impresa professionista sul territorio italiano accedendo a imprese in un giorno che costituisce il punto unico di contatto a livello nazionale possa sapere qual è il swap di riferimento per un certo territorio o per un certo comune da questo punto di vista quindi è importante che ciascun comune mantenga aggiornate le informazioni che sono state dichiarate presso il ministero quindi da questo punto di vista il mio suggerimento la mia richiesta andate accedete al portale imprese in un giorno andate a selezionare ricercare il vostro comune e andate a verificare se i riferimenti e i recapiti il responsabile del swap che è importantissimo come già citava Rocca Salva sono effettivamente correttamente dichiarati al ministero sono correttamente aggiornati sappiamo che c'è un turnover quindi potrebbe essere successo che il responsabile del vostro swap magari è cambiato e quindi verificate che sia stato effettivamente aggiornato e comunicato correttamente al ministero così come tutte le altre informazioni che sono state comunicate verificate anche se la piattaforma che avete accreditato presso il ministero sia effettivamente funzionante ed efficiente ed aggiornata ecco perché chiaramente ciascun comune deve garantire che la piattaforma telematica che ha adottato sia in ordine sia efficace e dia un buon servizio ai propri utenti chiaramente per tutti quei comuni che hanno aderito alla piattaforma camerale siamo noi come sistema camerale come infocamera che garantiamo il corretto funzionamento e l'efficienza della piattaforma e l'aggiornamento costante della piattaforma informale andiamo quindi a vedere più nel dettaglio quelli che sono gli strumenti operativi che vengono messi a disposizione nell'ambito del portale appunto per quei comuni che hanno aderito alla piattaforma imprese in un giorno quindi hanno aderito alla piattaforma messa a disposizione dal sistema camerale partiamo dagli servizi di front office e quindi da quei servizi e quegli strumenti che vengono messi a disposizione di imprese professioniste associazioni di categoria sono tutta una serie di strumenti che il professionista l'impresa trova disponibili nell'ambito del portale e che gli consentono di informarsi gli consentono di compilare le pratiche in modalità telematica gli consentono anche di seguire quello che è l'iter della propria pratica fino ad arrivare alla chiusura accedendo al front office quindi allo sportello di ciascun suap aderente ad imprese in un giorno l'utente trova una pagina di accoglienza nella quale trova innanzitutto delle novità delle informazioni che lo tengono informato su eventuali evoluzioni e novità presenti nella piattaforma nella colonna di destra trova delle funzionalità di informative e delle funzionalità di supporto e di assistenza operativa andiamo a vederle cliccando su prima di compilare compare una pagina nella quale ci sono tre sezioni disponibili una prima sezione riporta al servizio Ateco il servizio Ateco è un servizio gestito a cura delle camere di commercio che fornisce tutta una serie di informazioni sui codici Ateco in questo periodo di lockdown e di restrizioni varie i codici Ateco hanno rappresentato un punto di riferimento estremamente importante quindi all'interno di questo portale trovate tutte le informazioni relative ai settori Ateco e per ciascun settore Ateco avete quindi di attività economica la possibilità di approfondire le normative associate a ciascun a ciascuna attività e anche tutti gli adempimenti amministrativi che sono necessari per avviare quel tipo di attività quindi un sito informativo estremamente utile e importante a supporto di imprese professionisti una seconda sezione che si chiama informati fornisce informazioni più specifiche sui singoli procedimenti disponibili all'interno del SUAP e quindi all'interno di questi avere ancora una volta i riferimenti normativi ma avere anche il dettaglio dei requisiti necessari per svolgere una certa attività o per presentare un determinato procedimento così come tutta la documentazione che è necessaria presentare per quel certo procedimento questa sezione viene gestita a cura di infocamere nell'ambito dell'attività del SURAP e quindi stretto contatto con tutto il gruppo di lavoro del SURAP infine una sezione dedicata al tariffario dove sono pubblicati i tariffari di tutti i comuni e di tutti gli enti e che quindi consentono di conoscere in anticipo quelli che saranno i costi di presentazione di una pratica a seconda dei tipi di procedimento ecco da questo punto di vista questa sezione di tariffario noi la manteniamo aggiornata pubblicando i tariffari che ci vengono comunicati dai singoli comuni o dagli enti competenti e quindi suggerisco chiedo anche a tutti i comuni e agli enti competenti di inviarci i tariffari di inviarci eventuali aggiornamenti dei tariffari in maniera tale da poter tenere sempre aggiornato e completa questa sezione appunto per dare massima comunicazione e trasparenza verso gli utenti dicevamo c'è poi una sezione di supporto che è una sezione di assistenza operativa chiaramente parliamo sempre di assistenza operativa nell'utilizzo della piattaforma telematica dell'utilizzo dei vari sistemi strumenti messi a disposizione e sezione di supporto che può essere consultata sia per categorie quindi andando a cercare la tipologia di informazioni che mi servono ma anche digitando in questa casella di ricerca il tema l'informazione di cui ho bisogno quindi il sistema contiene tutta una serie di domande frequenti domande e risposte frequenti contiene dei video tutorial quindi dei video che posso guardare per vedere approfondire avere informazioni su un certo argomento ma anche all'interno di questa sezione di supporto trovo la possibilità di poter inviare delle richieste di assistenza dove avessi dei problemi tecnici per accedere per utilizzare per inviare le pratiche per compilare le pratiche eccetera quindi ho la possibilità di inviare delle richieste di assistenza o addirittura di fissare un appuntamento telefonico con un nostro tecnico per poter approfondire determinati problemi tecnici queste funzioni di supporto e anche tutti i manuali operativi d'uso li trovate poi disponibili anche nella fase di compilazione quindi li avete sempre a disposizione quindi l'invito è di utilizzare questi sistemi proprio per avere il massimo livello di informazione e di supporto durante la fase di utilizzo della piattaforma informatica arriviamo poi alla fase operativa il compila pratica quando schiaccio il tasto compila pratica inizio con tutta la fase di compilazione di una nuova pratica la compilazione di una pratica parte dall'identificazione dalla scelta del settore di attività nell'ambito del quale io mi voglio collocare scelta del settore che avviene selezionando nella lista dei settori che mi vengono presentati secondo quella che è la codifica a teco scelta il settore di mio interesse per esempio se io ho intenzione di lavorare in un panificio andrò a selezionare l'industria di artigianato poi alimentare e poi panificio quindi scendendo via via nei vari dettagli ma posso anche utilizzare la funzione di ricerca digitando una parola o digitando anche una parte della parola per esempio panif e schiacciando il tasto ricerca mi trova direttamente la parola il settore panificio nel passo successivo mi verrà richiesto nell'ambito dell'attività di panificio qual è l'avvimpimento che voglio effettuare quindi potrò scegliere se intendo aprire un panificio o subentrare nell'esercizio di attività di un panificio già operativo se voglio trasferire la sede se voglio cessare l'attività e così via naturalmente avendo la possibilità di selezionare qualsiasi tipologia di procedimento potrei anche voler effettuare una ristrutturazione edilizia del mio panificio anche in questo caso troverò gli addempimenti necessari per poterlo fare e per poterlo richiedere procedendo arriverò alla parte di compilazione vera e propria della pratica la compilazione della pratica avviene appunto con una compilazione guidata quindi il sistema mi presenta tutte le varie sezioni che devo compilare e mi guida anche nella compilazione la compilazione avviene sulla base di quella che è la modulistica nazionale o regionale e sulla base anche di quelle che sono le linee guida e le indicazioni che vengono definite e condivise nell'ambito del Sura perché quindi contribuiscono ancora di più a mettere a punto quelle che sono le caratteristiche dei procedimenti e quelle che sono i contenuti che devono avere i singoli procedimenti la compilazione guidata sostanzialmente mi fornisce delle indicazioni quindi mi dà un check verde laddove ho una sezione che è stata compilata in maniera corretta e completa mi dà una X rossa per segnalarmi che quella sezione non è stata compilata correttamente mancano dei dati o ci sono dei dati che non sono coerenti rispetto a quello che la modulistica prevede e infine un quadratino bianco laddove invece ci sia una sezione vuota che aspetta di essere compilata quindi in questo modo chi compila è guidato nella compilazione e viene già fatto un primo screening una prima verifica formale circa la completezza della pratica la pratica potrà essere trasmessa solo e soltanto se è compilata in maniera corretta e completa in ogni sua parte ci sono poi ulteriori sistemi di supporto per esempio la possibilità per i comuni di caricare all'interno del sistema il proprio viario e in questo modo l'utente quando va a compilare l'indirizzo l'ubicazione del proprio impianto produttivo del proprio negozio del proprio ristorante della propria attività avrà la possibilità di selezionare all'interno del diario comunale quindi scegliendo le vie quindi essendo ulteriormente guidato nella compilazione ultima cosa tutta questa compilazione ha poi come effetto la produzione di una pratica telematica vera e propria quindi corredata di dati informatici che poi possono essere utilizzati per chi riceve la pratica per alimentare i propri sistemi in maniera anche automatica quindi questo è un ulteriore effetto un ulteriore valore aggiunto della compilazione telematica attraverso il portale come si diceva oltre che la compilazione l'invio telematico della pratica l'utente e quindi sia il professionista ma anche l'imprenditore che è titolare di quella pratica hanno la possibilità poi di seguire l'iter di quella pratica e se vogliamo questa sezione questo sito rappresenta il domicilio digitale quindi quello che accennava prima Riccardo Roccasalva cioè l'utente ha diritto di conoscere qual è il domicilio digitale dell'amministrazione attraverso il quale può seguire l'iter della pratica e può interloquire con l'amministrazione per quella pratica bene questo domicilio digitale è sempre il portale impreso in un giorno e in particolare la sezione MyPage la sezione le mie pratiche inviate all'interno di questa sezione è possibile ciascuno ha la possibilità di vedere tutte le pratiche che ha inviato presso tutti i comuni presso qualsiasi comune se si tratta di un di un intermediario di un professionista che invia decine centinaia migliaia di pratiche c'è la possibilità di effettuare dei filtri di ricerca quindi per cercare le pratiche la pratica di proprio di proprio interesse e attraverso questa funzione c'è la possibilità di poter consultare in ogni momento la pratica di vedere il suo stato avanzamento ed eventualmente laddove necessario o laddove richiesto inviare integrazioni documentali inviare documentazione ulteriore conformazione e quant'altro che venisse richiesto ricordo che gli imprenditori hanno a loro disposizione un ulteriore strumento che è costituito dal cassetto digitale dell'imprenditore impresa.italia.it attraverso il quale hanno la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che la riguardano compreso anche le pratiche sue per lo stato avanzamento delle pratiche sue per quindi questo per dare massima trasparenza di tutto ciò che riguarda le pratiche che ciascuno ha presentato o che lo riguardano andiamo ora a vedere dall'altra parte gli strumenti messi a disposizione dei funzionari pubblici dei funzionari del comune o comunque dei funzionari che sono addetti alla gestione dello sportello SUAP quindi quello che noi chiamiamo scrivania SUAP anche all'interno della scrivania SUAP sono disponibili strumenti informativi di supporto nella fascia in alto che trovate quando accedete alla scrivania del SUAP vedete che ci sono degli avvisi ci possono essere degli avvisi cliccando sugli avvisi vi verrà dato anche tutto il dettaglio per esempio l'avviso che il 10 marzo c'è stata una revisione degli eventi disponibili nella scrivania cliccando su questo avviso vi verrà dato tutto il dettaglio di quello che quell'avviso rappresenta un altro avviso che vi può comparire riguarda la regolarizzazione dell'adesione questo è un aspetto diciamo più formale sapete che la gestione del servizio messo a disposizione delle Camere di Commercio avviene attraverso un'adesione che il Comune fa nei confronti della Camera di Commercio ecco quindi questo avviso vi viene dato qualora questa adesione non sia stata regolarizzata o sia scaduta e quindi vi viene dato questo invito a regolarizzare l'adesione quindi un aspetto formale ma è anche un aspetto molto importante anche ai fini del GDPR anche ai fini dell'incarico al trattamento dei dati ai fini della privacy nella menu di sinistra che trovate nella scrivania nella parte in basso trovate tutta una serie di sezioni di tipo informativo quindi una prima sezione di tipo informativo spiega cos'è l'adesione al SUAP e anche vi dà da responsabile del SUAP la possibilità di verificare controllare e eventualmente regolarizzare l'adesione nei confronti della Camera di Commercio c'è una sezione specifica che riguarda l'attivazione dei pagamenti quindi tutte le istruzioni le informazioni e la documentazione necessaria per attivare i pagamenti elettronici tramite Pago.pia che è una delle funzionalità che il sistema la piattaforma mette a disposizione dei SUAP e quindi i SUAP possono attivare e poi una sezione di help center all'interno del quale troviamo il servizio di supporto quindi analogo a quello che abbiamo visto per l'utente finale ma chiaramente più ricco più ampio perché riguarda anche tutte le funzioni le funzionalità di gestione del SUAP è una sezione un corso e learning gratuito che mettiamo a disposizione di funzionari del SUAP e che consente di poter aggiornarsi e di poter avere tutte le informazioni operative di come può essere fatta la gestione del SUAP ecco questa è una funzione estremamente importante soprattutto laddove ci sia stato un turnover un cambio delle persone che si occupano di SUAP perché quindi chiaramente le persone nuove arrivate abbiano bisogno di avere una formazione chiaramente qui parliamo soprattutto dal punto di vista operativo su come funziona la scrivania e su come si gestisce il SUAP e quindi anche qui un invito a usufruire di questo importante servizio di questo corso e learning perché può essere veramente molto utile e opportuno per darvi tutti gli strumenti e tutto il supporto necessario per utilizzare al meglio le funzionalità che vi vengono messe a disposizione naturalmente c'è a disposizione anche il manuale il manuale d'uso della scrivania lo teniamo sempre aggiornato quindi l'invito è a scaricarlo e utilizzarlo quando abbiate dei dubbi su come utilizzare determinate funzioni della scrivania così come anche alla fine avete un elenco di tutte le versioni quindi un riassunto di tutte le novità e di tutto quello che viene messo a disposizione che è stato messo via via a disposizione all'interno della scrivania sua tutte queste funzionalità vengono messe a disposizione della camera di commercio attraverso l'adesione al servizio quindi è un servizio che viene messo a disposizione dalla camera di commercio quindi prendete contatti con la camera di commercio di vostra competenza del vostro territorio se siete interessati ad aderire a questo tipo di servizio che viene messo appunto a disposizione dalla camera di commercio non è un servizio che viene venduto ma messo a disposizione dalla camera di commercio già prima Riccardo Roca Salva ha messo l'accento su quello che è il ruolo fondamentale del SUAP come punto di snodo quindi come punto di colloquio e su come il SUAP deve colloquiare con tutti i vari enti competenti quindi una delle funzionalità fondamentali che trovate a disposizione all'interno della scrivania sono proprio le funzioni che consentono il colloquio con i vari enti terzi con i vari enti competenti colloquio che deve avvenire per legge in modalità esclusivamente telematica colloquio che la scrivania gestisce in maniera anche differenziata in maniera personalizzata a seconda della tipologia di ente competenti quindi la scrivania è in grado di colloquiare con tutti i vari enti competenti coinvolti in un certo procedimento e il colloquio viene fatto in maniera specifica personalizzata a seconda di chi è l'interlocutore su questo faccio un attimo un approfondimento in particolare per quanto riguarda i vigili del fuoco perché rappresenta anche un esempio molto interessante attualmente il colloquio con i vigili del fuoco avviene tramite PEC perché questa è la modalità di colloquio che i vigili del fuoco hanno definito e hanno deciso di utilizzare ad oggi il comando nazionale dei vigili del fuoco e il ministero dell'interno da tempo sta portando avanti un progetto di rinnovamento strutturale di quelle che sono le piattaforme informatiche in uso presso i comandi dei vigili del fuoco e nell'arco del prossimo mese di giugno metterà in linea una nuova piattaforma che si chiama PRINCE e che è la piattaforma di prevenzione incendi centralizzata che il ministero degli interni metterà a disposizione di tutti i comandi dei vigili del fuoco da questo punto di vista grazie ad una convenzione che è stata sottoscritta a livello nazionale tra l'Unione Camere Nazionale e il comando nazionale dei vigili del fuoco e il ministero dell'interno è stata sviluppata una interoperabilità tra la piattaforma del SUAP e la nuova piattaforma dei vigili del fuoco che consentirà l'interoperabilità diretta tra il SUAP e la nuova piattaforma dei vigili del fuoco questa interoperabilità non transiterà più tramite PEC transiterà attraverso canali di cooperazione applicativa ma da questo punto di vista noi siamo già compatibili siamo già attrezzati e siamo pronti per poter colloquiare con la nuova piattaforma dei vigili del fuoco quindi tutto questo verrà messo direttamente automaticamente a disposizione di tutti i comuni che hanno aderito alla nostra piattaforma chiaramente i comuni che invece hanno proprie piattaforme dovranno provvedere autonomamente a mettere in piedi il dialogo il colloquio adeguato con i vigili del fuoco quindi questo era giusto per fare un approfondimento su una tematica specifica ma anche per darvi un'idea di cosa significa garantire il colloquio con i vari enti terzi un punto importante da chiarire è il fatto che la piattaforma identifica in maniera automatica quelli che sono gli enti competenti proprio sulla base della definizione del procedimento quindi quando andiamo a definire un procedimento anche in collaborazione con il SURAP vengono definite le caratteristiche del procedimento e tra queste vengono anche definiti quelli che sono gli enti competenti per il procedimento quindi il sistema sa già quali sono gli enti competenti e sa già quali sono gli enti a cui quel procedimento dovrà essere inoltrato dovrà essere comunicato se andate a vedere il modello nel formato pdf che viene generato dal sistema notate che nella parte sinistra c'è l'indice del modulo indice che serve anche per una veloce consultazione del modulo che vi consente anche di andare a consultare rapidamente le singole sezioni del modulo che sono di vostro interesse ma proprio qui vedete che ci sono già evidenziati quelli che sono gli enti competenti che vanno coinvolti per quel procedimento quindi da questo punto di vista e qui torno sul tema di evitare adempimenti inutili appesantimenti inutili il sistema già identifica quelli che sono gli enti competenti a cui vanno inoltrate le pratiche quindi la raccomandazione è di non aggiungere ulteriori enti se non siano assolutamente strettamente indispensabili diciamo che normalmente nella normalità delle pratiche non è mai necessario aggiungere enti competenti perché già il sistema li ha censiti e li ha già identificati in ogni caso di non aggiungere mai la camera di commercio come ente competente perché sicuramente la camera di commercio è già identificata laddove sia necessario quindi evitiamo adempimenti inutili evitiamo coinvolgimenti che non siano strettamente necessari la funzione che consente il colloquio con gli enti e quindi il coinvolgimento degli enti è l'evento di inoltre ad autorità competente ed è l'evento appunto che viene messo a disposizione nella scrivania proprio per consentire al SUAP di colloquiare con gli enti da questo punto di vista quindi quando l'operatore del SUAP effettua l'evento di inoltre ad autorità competente nel caso di procedimento automatizzato quindi di scia di scia unica di comunicazione il sistema provvede a comunicare quella scia o quella scia unica o quella comunicazione a tutti gli enti che sono enti competenti per quel procedimento dico anche che tra le funzionalità che il sistema mette a disposizione c'è anche la possibilità di effettuare l'inoltro automatico quindi se il SUAP lo decide il sistema lo sportello può essere impostato in modo tale da provvedere all'inoltro automatico nel momento stesso in cui riceve la pratica quindi evita diciamo del lavoro manuale al personale ai funzionari che devono gestire il SUAP nel caso invece di procedimento ordinario il funzionamento è leggermente diverso come già spiegava Riccardo Roccasalva il procedimento ordinario richiama il concetto di procedimento unico ed è un procedimento composto da più endoprocedimenti ciascun endoprocedimento ha delle sue caratteristiche ciascun endoprocedimento ha un proprio ente competente quindi per questo motivo nel caso di procedimento ordinario cioè di procedimento che attiene alla richiesta di autorizzazioni in questo caso il sistema procederà ad inviare ciascun endoprocedimento al rispettivo ente competente corredato dai documenti che attengono a quell'endoprocedimento quindi c'è un comportamento diciamo più selettivo perché in questo caso vanno richiesti i pareri specifici a ciascun ente competente poi sulla base dei pareri che gli enti competenti restituiranno al SUAP il SUAP potrà rilasciare il provvedimento unico poi per tutti i dettagli amministrativi ovviamente rimando alle linee guida che su queste sono molto dettagliate e molto chiare ci può essere anche il caso in cui un ente non sia strettamente ente competente nel procedimento quindi non ci sia un coinvolgimento diretto di un ente ma che il SUAP ritenga comunque utile o necessario inviare un documento alcuni specifici documenti ad un certo determinato ente in questo caso c'è l'evento specifico di comunicazione SUAP ente quindi nel caso di esempio che vediamo c'è una pratica di tipo edilizio che ha come ente competente l'ufficio del comune il comune l'ufficio tecnico come ente competente ma analizzando il contenuto della pratica questo SUAP ha ritenuto necessario inviare una comunicazione con un documento non tutta la pratica inviare un documento alla soprintendenza per una presa visione per una comunicazione per un'informazione anche solo per un parere consultivo quindi non una competenza nell'ambito della pratica ma una interazione specifica in questo caso chiaramente l'ente non diventa ente competente non viene aggiunto come ente non deve essere aggiunto come ente competente nell'iter della pratica non deve essergli nemmeno inoltrata l'intera pratica perché non è interessato l'ente a vedere l'intera pratica ma gli viene fatta una comunicazione specifica puntuale contenente uno o alcuni specifici documenti naturalmente parliamo di un colloquio quindi c'è stato una comunicazione un inoltro della pratica un coinvolgimento degli enti dal SUAP verso l'ente ci può essere una risposta dall'ente verso il SUAP perché sottolineo ci può essere perché anche qui abbiamo detto cerchiamo di evitare adempimenti inutili rispondere sempre comunque a tutte le comunicazioni che arrivano in tasa solo gli uffici in tasa le PEC in tasa gli uffici in tasa le scrivanie ma non serve va solo ad alimentare ad aumentare il costo amministrativo il costo burocratico quindi anche in questo caso le risposte è utile che vengano date solo dove effettivamente servono quindi a fronte di un invio di una scia non serve assolutamente che l'ente competente mandi nessuna risposta la ricevuta di ritorno della PEC già è più che sufficiente è tutto automatico è tutto tracciato ed è già più che sufficiente per sapere che quell'ente competente ha ricevuto la pratica non servono lettere di risposta sono solo perdite di tempo scusatemi la franchezza invece ci possono essere dei casi in cui assolutamente è necessaria una risposta dall'ente competente è necessaria dove ci sia una richiesta di perere ovviamente è necessaria dove ad esempio ci siano degli scontri negativi quindi laddove verificata una scia l'ente competente verifichi che ci sono delle carenze di merito necessariamente dovrà rispondere dove ci sia una parere negativo ovviamente dovrà rispondere ma sono casi specifici non la totalità delle pratiche non per la totalità delle pratiche è necessaria una risposta la risposta come può arrivare dall'ente verso il suo app ovviamente in modalità esclusivamente telematica anche questo la legge da dieci anni a questa parte lo dice in maniera molto chiara la risposta può avvenire rispondendo alla PEC che l'ente ha ricevuto se il colloquio avviene via PEC potrà essere utilizzata la scrivania enti terzi che è una piattaforma o servizio che noi mettiamo a disposizione degli enti terzi proprio con lo scopo di favorire il colloquio il dialogo telematico tra il SUAP e gli enti terzi o potrà avvenire attraverso sistemi di interoperabilità citavamo prima l'interoperabilità con il nuovo sistema di vese del fuoco ma questo ovviamente è possibile con qualsiasi sistema di back office con qualsiasi sistema gestionale del comune o di qualsiasi altro ente questa interoperabilità qui entro un attimo su temi più diciamo scusitamente informatici perdonatemi poi ovviamente questi sono temi che potrebbero che potranno essere anche ripresi con singoli enti o laddove insomma ci sia la necessità ma è giusto per dare un'idea di tutte quelle che sono le potenzialità della piattaforma messa a disposizione dal sistema camerale il sistema appunto dello sportello camerale è un sistema in grado di colloquiare telematicamente con qualsiasi sistema di back office perché rispetta quelli che sono i formati dell'allegato tecnico del DPR 160 e le regole tecniche di interoperabilità del portale rispetta anche quelli che sono le specifiche tecniche definite da Agile pubblicate in gazzetta ufficiale specifiche tecniche che definiscono i contenuti di ciascun modulo della modulistica unificata e standardizzata e che tutti i comuni sono obbligati e tutti gli enti sono obbligati a recepire fin dal 2017 e quindi tutto questo offre le premesse le potenzialità perché qualsiasi back office qualsiasi sistema gestionale in capo a ripeto qualsiasi ente pubblico che sia il comune la provincia l'asl la regione o qualsiasi ente interessato possa acquisire in maniera telematica le pratiche che vengono inviate che vengono inoltrate dalla piattaforma SUAP ma anche che consenta di rispondere sempre in maniera interoperabile quindi da questo punto di vista ripeto le specifiche sono pubblicate in gazzetta ufficiale sono pubblicate sul portale e quindi ci sono tutti i presupposti per garantire questo tipo di colloquio che già funziona in molte realtà territoriali e che quindi speriamo venga adottato e diffuso il più possibile proprio per favorire e aumentare l'efficienza nel colloquio tra il SUAP e i vari enti un tipo particolare di interoperabilità e di colloquio telematico è il colloquio che avvene tra il SUAP e la Camera di Commercio qui ovviamente giochiamo in casa e quindi garantiamo il colloquio telematico attraverso quelle che vengono definite comunicazioni REA tra il SUAP e la Camera di Commercio colloquio che viene che è previsto già nel DPR 160 e colloquio che appunto garantisce l'alimentazione del REA del registro economico repertorio economico amministrativo presso la Camera di Commercio consente l'alimentazione del fascicolo di impresa con tutta la documentazione che viene inviata e consente alla Camera di Commercio al registro di imprese di conoscere in tempo reale anche quelle che sono gli esiti delle pratiche da questo punto di vista l'importanza che l'iter della pratica venga correttamente gestito a livello di scrivania sia perché l'iter della pratica è visibile all'utente abbiamo visto prima che l'utente attraverso la MyPage l'imprenditore attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore hanno la possibilità di seguire l'iter della pratica quindi è importante che venga tracciato all'interno della scrivania l'iter della pratica ma anche perché questo esito viene comunicato alla Camera di Commercio che quindi sa automaticamente se quella certa scia è andata a buon fine piuttosto che no se quell'autorizzazione è stata rilasciata piuttosto che no perché questo ha chiaramente poi un'influenza anche rispetto a quello che è il registro imprese rispetto a quella che è la posizione nel registro imprese di quelle imprese di quell'attività produttiva proprio perché ci sono già questi eventi automatici di comunicazione tra la scrivania del SUAP e la Camera di Commercio a maggior ragione non sono necessarie ulteriori comunicazioni dal Comune e dal SUAP verso la Camera di Commercio perché già queste avvengono in maniera automatica quindi anche qui risparmiamo evitiamo adempimenti inutili perché già sono fatti in maniera automatica dalla piattaforma bene a fronte di questa comunicazione che arriva automaticamente dal SUAP verso la Camera di Commercio altrettanto in maniera automatica la Camera di Commercio risponde mettendo a disposizione del SUAP la visura del registro imprese cioè nella vostra scrivania voi trovate a disposizione questa sezione questo pulsante scarica la visura con questa funzione voi avete la possibilità di scaricare di ottenere in tempo reale quindi non è una visura allegata alla pratica è la visura che voi in questo momento quando cliccate su questo tasto ottenete la visura aggiornata che voi ottenete dalla Camera di Commercio e quindi avete la possibilità come già previsto dal DPR 160 di avere tutte le informazioni che la Camera di Commercio detiene nel registro imprese relativamente a quell'impresa questo a supporto della vostra attività di istruttoria e della vostra attività di verifica della pratica che vi è stata presentata ma soprattutto evita e qui la normativa vieta espressamente alle pubbliche amministrazioni di chiedere all'impresa al cittadino documentazione già in possesso della pubblica amministrazione quindi questo va proprio in linea va proprio a rispondere a questa esigenza ancora una volta di semplificazione ancora una volta di evitare adempimenti inutili quindi non chiedete mai alle imprese di allegare la propria visura perché la visura la ottenete direttamente dalla Camera di Commercio attraverso questa funzionalità anche questo semplifica l'inter e vi dà la possibilità appunto di utilizzare informazioni che il sistema vi mette direttamente e gratuitamente a disposizione naturalmente all'interno della scrivania trovate poi tutti gli eventi necessari a gestire l'inter della pratica quindi troverete la possibilità di chiedere integrazioni laddove necessario e laddove strettamente necessario cioè laddove la norma lo preveda non qualsiasi integrazione perché ancora una volta la norma vieta di chiedere informazioni o documenti ulteriori oltre a quelli strettamente previsti e la possibilità ad esempio di chiudere la pratica positivamente o negativamente a seconda di quello che sarà stato l'inter di merito e a seconda dei pareri che avrete ricevuto dagli enti competenti quindi all'interno della scrivania trovate praticamente tutti gli eventi necessari a gestire l'inter della pratica tenete conto che l'elenco degli eventi disponibili cambia a seconda della tipologia di pratica quindi sono diversi a seconda che si tratti di una pratica di tipo una pratica con adempimenti tipo automatizzato con procedimenti di tipo ordinario e poi cambia anche a seconda dello stato avanzamento perché chiaramente a seconda dello stato avanzamento in cui si trova la pratica ci sono degli eventi diversi che possono essere utilizzati all'interno della scrivania c'è anche una funzione di calcolo delle scadenze quindi anche questa è una parte estremamente importante che vi aiuta e vi supporta nel capire come sta andando avanti una certa pratica e quindi nel dettaglio della pratica che trovate nella scrivania trovate le scadenze parlo al plurale perché possono esserci più scadenze per una pratica nel caso diciamo più complesso che ho evidenziato in esempio trovate che c'è una scadenza del procedimento che viene calcolato a seconda del tipo di procedimento a seconda del regime amministrativo a seconda di come quel procedimento è stato definito con la propria scadenza e di mette in evidenza i giorni rimanenti alla scadenza ma in questo caso vediamo che quella scadenza del procedimento è sospesa perché è sospesa perché è stato chiesto un'integrazione e quindi nel momento in cui voi inserite un evento di richiesta di integrazione il sistema in automatico sospende i termini del procedimento che riprenderanno a decorrere solo quando saranno scaduti i termini per l'integrazione o quando l'utente avrà inviato l'integrazione quindi sono tutti i meccanismi che il sistema contiene mette a disposizione proprio a supporto dell'attività dei funzionari del suo app quindi in questo caso diciamo un caso complesso un procedimento ordinario per il quale è stata chiesta un'integrazione quindi esiste una scadenza del procedimento che però è sospesa una scadenza dei termini istruttori che sono a 30 giorni rispetto all'arrivo della pratica e una scadenza dell'integrazione che sono i termini che io ho dato all'utente entro i quali mi dovrà fornire l'integrazione ecco quindi una gestione articolata complessa delle scadenze che vi aiutano nella gestione delle pratiche ecco questo aspetto è particolarmente importante perché proprio la legge 120 2020 stabilisce che sono inefficaci i procedimenti i provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini quindi l'attenzione ai termini alle scadenze e le pratiche è particolarmente utile e importante esiste poi una apposita funzione di scadenziario che vi dà proprio la possibilità di vedere l'agenda la lista delle pratiche con tutte le relative scadenze quindi un ulteriore strumento di supporto che vi viene messo a disposizione con questo ho concluso il mio intervento lascio la parola a Riccardo per iniziare con le risposte e poi mi aggiungo anch'io grazie 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 dottor grazie dottor Agostinelli vedo il dottor Roccasalva collegato e ti lascio la parola allora giusto un paio di risposte perché poi gli altri quesiti riguardano tutti gli interventi del dottor Agostinelli allora per quanto riguarda la prima domanda il responsabile del procedimento può essere un professionista esterno il responsabile del procedimento deve essere un soggetto inquadrato nel suo app naturalmente quindi deve essere necessariamente un dipendente del comune quindi dell'ente di riferimento assolutamente buongiorno se è possibile volevo sapere se il portale per quanto attiene le pizzerie d'asporto basta la scia sanitaria o è necessaria una specifica scia artigianale nel settore alimentare allora qua anche se la domanda sembra riguardare il portale posso rispondere io se Giuseppe è d'accordo perché è più che altro una domanda di carattere amministrativo allora per quanto riguarda le pizzerie d'asporto allora ricordiamo faccio giusto un breve inciso sono appunto esercizi dove si producono generi alimentari prodotti naturalmente dal titolare dell'esercente e se non vi sono piani di appoggio se non vi sono strumenti che consentono il consumo sul posto perché in quel caso sarebbe somministrazione non artigianato alimentare allora in quel caso quindi se è esclusivamente l'asporto si considera un esercizio di artigianato alimentare in quel caso sarà una scia tipicamente una scia unica quindi dove dentro ci sarà la scia per l'esercizio per l'esercizio alimentare quindi per l'artigianato alimentare una scia la notifica sanitaria in primis diciamo volevo giusto ricordare giusto colgo un quesito il per quanto riguarda appunto questo questo argomento noi come centro di competenza della campagna ci siamo dedicati in questo periodo in questi primi mesi di attività del centro ad evadere diciamo così a pubblicare la modulistica che riguarda specificamente il testo unico del commercio quindi prossimamente verrà pubblicata anche la modulistica relativa alla rivendita di quotidiani e periodici e a tutto ciò che riguarda la sua amministrazione e infine un ultimo tassello riguarderà la modulistica sui distributori di carburanti dopodiché faremo un ragionamento anche con i colleghi della regione delle camere di commercio quello dell'artigianato così come del tulps è sicuramente un settore molto importante su cui si sente una grande esigenza di creare modulistica unificata e standardizzata anche perché a livello nazionale in quei settori non c'è molto per cui sicuramente sarà un aspetto importante prima di ridare la parola al dottor Agostinelli visto che sono tutte domande che più o meno riguardano il suo intervento volevo soltanto anticiparvi che prossimamente ci sarà un altro un secondo il secondo webinar del ciclo che riguarderà nel quale io e la collega Giuseppina Russo tratteremo più specificamente le linee guida per quanto riguarda il procedimento del SUAP quindi si tratterà del procedimento di SCIA quindi le verifiche delle SCIA il procedimento unico autorizzatorio quindi quello dell'articolo 7 il procedimento che riguarda soprattutto le varianti urbanistiche quindi entreremo più nel dettaglio dal punto di vista amministrativo tecnico del procedimento di SUAP quindi volevo giusto ricordare Onorina mi sembra che già ha dato questa informazione però la volevo ribadire io Giuseppe mi fermerei qua ti cederei di nuovo la parola perché vedo che le domande riguardano grossomodo tutte le sue tutte le tue tematiche che hai trattato tu grazie dottor Roccasalva vediamo perfetto prego dottor Agostinelli sì eccomi appunto molte domande sono di tipo appunto amministrativo quindi scorrendo un po' quelle che sono gli aspetti più di carattere tecnico allora la piattaforma non va acquistata è una piattaforma come dicevo messa a disposizione dal sistema camerale quindi i comuni che fossero interessati a utilizzarla devono rivolgersi alla camera di commercio di competenza sottoscrivere l'adesione al servizio e poi in questo modo verrà attivata la piattaforma e verrà fornito tutto il servizio essendo un servizio disponibile tramite tramite web non serve non servono installazioni non servono dotazioni particolari presso il comune ma semplicemente diciamo un computer quello sì serve un computer per collegarsi alla piattaforma un collegamento internet ma non servono ulteriori strumentazioni informatiche poi ci sono alcune domande che riguardano la gestione diciamo interna lenta ecco noi non forniamo sistemi di back office quello che noi forniamo è un sistema di sportello è un sistema che consente di gestire in maniera telematica completa tutte le funzioni del swap ma è un sistema appunto di sportello quindi non forniamo sistemi di back office sistemi gestionali interni agli enti e nemmeno interni al comune per quanto riguarda difficoltà specifiche nell'utilizzo della piattaforma appunto noi mettiamo a disposizione un'assistenza tecnica quindi se qualcuno di voi insomma trova delle difficoltà nell'utilizzo della piattaforma può rivolgersi al nostro servizio di assistenza e chiaramente daremo tutto il supporto necessario per poterlo per poterlo utilizzare al meglio poi nella scrivania ci sono tutta una serie di funzioni di consultazione che consentono l'estrazione di liste di elenchi di pratiche che poi si possono anche esportare in formato excel quindi ci sono appunto sia funzioni di selezione e sia funzioni di estrazione di elenchi di pratiche chiaramente il suo app è uno sportello gestisce pratiche e quello che può essere ricercato estratto sono liste di pratiche però tutto questo ovviamente è possibile la funzione di consultazione dà proprio questa possibilità poi rimando appunto al corso learning piuttosto che al manuale utente per avere tutti i dettagli sull'utilizzo di queste funzioni per quanto riguarda la conservazione digitale non ne ho parlato ma tra le funzionalità tra i servizi che noi svolgiamo in quanto siamo anche conservatori accreditati presso Agit c'è anche la conservazione di tutte la documentazione quindi la conservazione digitale dei dati la assolviamo il comune la assolve nel momento in cui aderisce alla piattaforma ed è anche per questo che sottolineavo l'importanza di sottoscrivere e di regolarizzare l'adesione con la camera di commercio parlando di scadenze appunto è possibile nell'ambito della singola pratica del dettaglio della singola pratica prendere visione avere evidenza delle scadenze della singola pratica ma come accennavo è anche disponibile una funzione di scadenziario che vi dà l'elenco totale di tutte le scadenze quindi vi dà la lista di tutte le scadenze anche qui con la possibilità di applicare dei filtri quindi magari di avere il filtro solo delle pratiche di tipo ordinario avere il filtro solo delle richieste di integrazione avere il filtro solo di determinate tipologie di pratiche o di un certo periodo di tempo anche in questo caso anche questo tipo di lista di scadenziario vi dà la possibilità di esportare i dati in Excel o in altri formati in modo tale da poter anche avere dei report o avere dei resoconti qualsiasi tipo di documento che vi possa servire ecco per quanto riguarda tutte le varie questioni riguardanti la modulistica su questo appunto rimando un po' all'ambito del SURAP ma posso dichiarare fin d'ora la nostra disponibilità nel caso in cui emergesse la necessità di definire ulteriori procedimenti o di modificare evolvere i procedimenti che già sono disponibili all'interno del portale chiaramente questo lo facciamo quotidianamente e appunto da questo punto di vista il SURAP per noi rappresenta un elemento estremamente importante perché ci dà le indicazioni ci dà le linee guida a livello regionale attraverso le quali possiamo andare a standardizzare semplificare e migliorare i contenuti dei procedimenti telematici che sono disponibili all'interno del portale un'altra domanda è appunto se quando arriva una pratica al SUAP del comune è il SUAP che automaticamente direttamente invia agli enti la documentazione oppure se il personale sono i funzionari del SUAP a doverlo inviare però diciamo che normalmente è una funzione lasciata in capo ai funzionari del SUAP che devono provvedere all'inoltro come mostravo prima c'è proprio una specifica funzione uno specifico evento di inoltro che consente ai funzionari del SUAP di decidere se e quando effettuare l'inoltro della pratica agli enti competenti ma è anche possibile su richiesta del comune su richiesta del SUAP impostare un automatismo nello sportello e fare in modo che il sistema in automatico proceda all'invio automatico delle pratiche agli enti competenti quindi questa è una scelta di impostazione che ciascun SUAP può fare normalmente il sistema è impostato sulla modalità manuale quindi ciascun SUAP ciascun funzionario SUAP dovrà provvedere ad inviare manualmente quando lo ritiene utile quando ritiene che sia il momento di farlo le pratiche verso gli enti competenti ma su vostra richiesta lo possiamo anche impostare in modalità automatica quindi da questo punto di vista potete fare richiesta tramite la nostra assistenza di impostare il vostro SUAP nella maniera che ritenete più opportuna Allora un'ulteriore domanda riguarda le cartelle zippate posso rispondere sono in tempo Sì sì prego come no Ecco sulle cartelle zippate allora diciamo che è una modalità sconsigliata perché le cartelle zippate non consentono di avere un immediato controllo e un'immediata visibilità su quelli che sono i contenuti dei singoli documenti quindi è una modalità altamente sconsigliata dopodiché c'è la possibilità di poter inserire nella scrivania anche di allegare anche file di tipo zippato però ripeto è una modalità sconsigliata quindi da valutare caso per caso comunque tecnicamente è possibile io ho concluso e ripasso la parola grazie dottor Agostinelli allora lascio la parola prima dei saluti al dottor Sergio Mazzarella prego prego dottor Mazzarella la sentiamo ecco sì adesso dovrebbe essere attivato il microfono sì eccomi ecco stavo riattivando il microfono mi sentite vero? sì 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 sentiamo censura ecco non so se Riccardo tra l'altro ha qualche altra indicazione operativa dalle domande che stanno pervenendo quindi però volevo evidenziare una domanda parlava quindi di pratiche che arrivano al SURAP che SURAP poi trasmetta al SURAP no volevo specificare bene qual è il ruolo del SURAP regionale che è stato istituito con la legge 11 del 2015 il SURAP non ha funzioni di gestione delle pratiche come dicevo prima in realtà prima avevo fatto riferimento solo al DPR 160 del 2010 per i SURAP comunali in realtà sono più diciamo più vecchi né più datati del 98 la istituzione con la DPR 447 però il DPR 160 del 2010 viene a definire quelle che sono le attuali competenze quindi diciamo quali che sono le strutture la definizione attuale dei SURAP comunali sono i SURAP comunali che devono ricevere le domande e sono diciamo lo sportello l'interfaccia per le imprese il SURAP svolge un'attività che sostanzialmente di monitoraggio del funzionamento dei SURAP comunali ma anche di coordinamento diciamo sostanzialmente li aiuta a svolgere meglio quello che sono le loro funzioni ma i poteri le competenze sono dei SURAP in tal senso diciamo il SURAP non ha poteri di gestione lo volevo specificare per chiarire meglio un po' quella che diciamo si la struttura attiva nella regione Campania quello che però voglio diciamo evidenziare nel chiudere diciamo la giornata di oggi e come ha detto anche il dottor Riccardo Roccasalva quindi noi stiamo facendo un lavoro di facilitazione come avevo anticipato che non ne ho parlato molto all'inizio nell'intervento per non rubare spazio diciamo che si sta concentrando molto sull'aggiornamento e l'integrazione della modulistica dei SUAP proprio perché anche questo è un altro strumento importante di standardizzazione e diciamo di uniformità dei documenti e dei procedimenti e anche di semplificazione nei libri ovviamente delle semplificazioni che sono ammissibili dalla normativa nazionale quindi stiamo procedendo evidenzio giusto per andare sul concreto che nell'ultimo book del lunedì scorso è stato pubblicato il decreto 119 delle attività produttive che ha approvato appunto tutta una serie di modulistiche sul commercio in sede fissa sul commercio su posti pubblici o anche sul commercio speciale eccetera e come ha già detto il dottor Riccardo Roccasalva proprio molto a breve ci sarà un ulteriore decreto che approverrà la modulistica per la somministrazione di alimenti e bevande per la vendita all'editoria e in realtà abbiamo anche aggiornato come centro di competenza quello per le agenzie funebri nello scorso anno c'era stata altra modulistica di aggiornamento per il commercio e anche per le agenzie di viaggio quindi insieme stiamo cercando di lavorare con tutto il centro di competenza e quindi con informe sognon camere e infocamere diciamo anche ad aggiornare tutta questa modulistica però in generale il segnale che voglio diciamo così dare il messaggio un po' a tutti i nostri interlocutori in particolare poi ai SUAP è che come SUAP e centro di competenza siamo a disposizione per approfondire poi determinate criticità problematiche che possono emergere e insieme diciamo a questa squadra di partner poi a seconda delle proprie specificità trovare ecco come dire indicare delle soluzioni che sono percorribili per migliorare il servizio all'utenza che poi è lo scopo finale diciamo di tutte queste attività come già avete ricordato questa tematica di approfondimento poi delle linee guida seguirà poi proseguirà nel diciamo nel webinar del 10 di giugno e poi anche del 24 diciamo l'interesse principale oggi era quello di portare innanzitutto di diffondere la notizia dell'approvazione di linee guida di per sé riteniamo che il testo è molto chiaro ed è molto diciamo facilmente consultabile da tutti e che è stato poi pubblicato sul sul book vi do il no il numero è il 42 comunque del 19 di aprile di quest'anno però è facilmente poi scaricabile anche dal portale del SUGAP altro elemento ecco che suggerisco per gli operatori di tenere d'occhio perché sul portale sono appunto indicate tutte le attività le notizie e aggiornamenti della modulistica che facciamo non che anche quello che sono i pareri più ricorrenti che le domande più ricorrenti quindi che ci vengono fornite quindi le FAC e con ciò saluto ringrazio tutti per la cortesa attenzione e come detto restiamo a disposizione comunque per qualsiasi problematica che si può che con dubbi che si possono avere nell'attività quotidiana dei SUGAP buona giornata arrivederci Onorina se posso visto che mancano tre minuti volevo rispondere ad un'ultima domanda dove si chiede per quelle che sono insomma il mio ambito di competenza per contribuardo al commercio elettronico di auto usate si chiede c'è bisogno di indicare necessariamente il luogo di deposito per le verifiche in merito al TULPS e registri ben usati allora su questo spendo giusto due parole poi gli estremi magari di quello che citerò li metto nel parere nel testo scritto che pubblicheremo sulla pagina di eventi PA alle vostre domande pubblicheremo le risposte scritte e quindi metterò gli estremi allora c'è una circolare in proposito del MISE del Ministero dello Sviluppo Economico del 2018 che ricorda che nonostante l'abrogazione dell'articolo 126 TULPS che riguarda appunto il commercio di beni usati è sopravvissuto l'articolo 128 che invece riguarda l'obbligo di tenere il registro dei beni usati quindi per l'ultima domanda sicuramente la risposta è affermativa quindi bisogna continuare a tenere il registro dei beni usati mentre per quanto riguarda il discorso dell'indicare il luogo di deposito il modello regionale che abbiamo predisposto conformemente del resto a quello nazionale prevede come onere informativo diciamo proprio in fase di compilazione del modello soltanto l'indicazione del sito dell'indirizzo sito web attraverso il quale si svolge l'attività di commercio elettronico e non anche l'indirizzo del deposito dei veicoli usati questo naturalmente non toglie al SUAP poi di effettuare e anche gli organi di polizia locale del comune naturalmente di poter chiedere in fase di istruttore ulteriori informazioni appunto in fase di verifica all'interessato quindi volevo dire soltanto questo e ho concluso grazie mille allora attivo la mia webcam io ringrazio tutti i partecipanti ringrazio i relatori ricordo prima di chiudere l'incontro di oggi che sia la registrazione che le slide relative a questo incontro saranno messe a disposizione sul sito di eventi PA alla pagina dedicata a questo evento entro la giornata di oggi che gli attestati di iscrizione saranno rilasciati a quanti hanno seguito almeno il 20% dell'incontro e si sono chiaramente iscritti all'incontro e saranno scaricabili autonomamente sempre dal sito di eventi PA alla pagina i miei eventi questi attestati di iscrizione saranno disponibili per essere scaricati nei prossimi giorni ricordo infine che anche le risposte alle domande saranno messe a disposizione per iscritto nei prossimi giorni sul sito sempre sul sito di eventi PA alla pagina dedicata a questo evento io ringrazio ancora tutti vi auguro una buona giornata grazie grazie arrivederci 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 a questo Grazie.